Squadre che prendono posto in campo, facciamogli sentire tutto il nostro calore! È partito! Apperti! Semmè! L'ordiere va tranquillissimo qui! La spunterà! L'ordiere che ci arriva tranquillo! Chi si era? Fanno girare bene la palla! Sennà! 1-0 si riprende a giocare provano a ristabilire la parità si si eccezionale qui l'intervento del portiere un minuto al termine del primo tempo si oppone la campione tocca tocca un minuto al termine del primo tempo 30 secondi al termine del primo tempo che carità mi sa che il vantaggio lo dimasta all'intervento match che ricomincia 3-0 10 secondi all'intervallo 5-4-3-2-1 termina il primo tempo ho un'idea facciamo chi fa più casino in attesa che inizi la ripresa mi va squadra di nuovo al campo occhio qui tranquillo si libera che rovetta che rovetta che rovetta che rovetta riconquista palla con questo intervento vediamo come lo sprutta oggi è tranquillissimo qui l'intervento 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 è dominato si allarga la forbice 4-0 sono esagerati sono esagerati bene qui il portiere e il portiere dice di no che roba eh la pasta l'intervento 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 un minuto al termine del match un proxenso Ancora 30 secondi prima del fischio finale No, no, no Marloni è recuperato, va il take Può metterla E poi era tranquillissimo qui 10, 9, 8, 7, 6, 5, 6 Sì, riparte Game over E' la partita del fischio finale E' la partita del fischio finale Vi chiedo di fare l'ultimo applauso alle due squadre Che ne dite? Grazie